Sull'annunciata chiusura dei progetti di somministrazione dei passi ai detenuti garantiti dalle cooperative esterne all'amministrazione penitenziaria, i casi di Torino e Ivrea, si è tenuta a Palazzo Lascari su una conferenza stampa promossa dal garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Bruno Mellaro. Hanno partecipato il direttore della casa circondariale di Torino, Domenico Minervini, il responsabile della cooperativa Ecosol per il progetto Libera Mensa, Piero Parente e Marco Girardello della casa di carità Arti e Mestieri.